Il prossimo gruppo di West Coast Swing Vediamo chi di voi può immaginare che tipo di stile o comunque che tipo di musica utilizzeranno questi ballerini Vediamo cosa è che mi ricorda Cos'è? Cos'è? La Pantera Rosa? Vai abbiamo azzeccato Giuliana e i loro ballerini ci presentano la Pantera Rosa Cos'è? 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti